Esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Stretching cervicale. Via! Fai attenzione a mantenere la schiena dritta e ferma. Effetto il movimento solamente con il capo. Non sforzare le spalle, mantienile sempre basse e rilassate. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stretching braccia, spalle e pettorali. 3, 2, 1, via! Fai attenzione a non piegare la schiena. Per aiutarti, guarda un punto di fronte a te. 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stretching braccia, spalle e dorsali. 3, 2, 1, via! Non forzare la spinta verso l'alto. Fermati quando le spalle sono al limite. Non inarcare schiena e collo. Guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stretching femorali. 3, 2, 1, via! Non piegare le gambe durante tutto l'esercizio, così da mantenere costante l'efficacia. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! 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 5, 4, 3, 2, 1, stop. 5, 4, 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Stretching quadricipiti. 3, 2, 1, via! Il ginocchio della gamba posteriore non deve toccare il suolo durante l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, cambialato nel minor tempo possibile. Via! La gamba posteriore deve essere ben distesa per allungare il quadricipite. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Allungamento lombare. 3, 2, 1, via! Fai attenzione a non piegare le braccia durante tutta la sequenza. Esegui tutti i movimenti lentamente in modo da evitare problemi alle articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Stretching abduttori. 3, 2, 1, via! Non ruotare le spalle. Per aiutarti, guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, cambialato nel minor tempo possibile. Via! 5, 4, 3, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stretching bicipiti femorali. 3, 2, 1, via! Non piegare la gamba. Per raggiungere il massimo allungamento, occorre che sia sempre ben distesa. 5, 4, 3, 2, 1, cambialato nel minor tempo possibile. Via! 5, 4, 3, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Allungamento schiena. 3, 2, 1, via! Non guardare davanti. Rilassa il collo portando la fronte alle ginocchia. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Non piegare le braccia, tienile sempre ben distesa. 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 Grazie.